Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Mix Game Studio Io sono Vicky ed è successo di nuovo È successo di nuovo Evo qua, su questa notissima pagina di internet Pornhub A fare delle ricerche puramente scientifiche Quando mi sono imbattuto Intanto in questa zona che vi sto cerchiando e che voi non vedrete Che cosa stanno facendo? È incredibile Comunque, evo qua che stavo cercando del materiale Per i video ovviamente, quelli di Youtube, non pensate male E mi sono imbattuto in Battlefield 1 C'è Battlefield 1 su Pornhub Cioè guardate, ci sono trailer e anche parti di gameplay Un gameplay questo di alta qualità Ah, intanto qua Ah, ho capito Black Friday C'è il doppio senso Black Friday perché lei è nera Ah, adesso si ritorna tutto Torna tutto ragazzi È malata come cosa Ma va bene Intanto, vogliamo aprire questo qua di 28 secondi Perché mi cancella cose Vediamo un po' Qui altre cose che non vedrete Lasciamo stare Parti Ok, un pezzetto di gameplay schifoso Senza un senso Ma va bene Torniamo su Battlefield 1 Intanto hanno addirittura cambiato L'immaginina qua che si muove Cioè mamma mia Pornhub vince su tutti i ragazzi E ci sono pagine Qui non vado verso il basso Perché ci sono altri 5 o 6 Ma poi dovrei stare lì a editarlo Montarlo Fare cose Per non nascondere sta roba qui Lasciamo l'immagine qua Che va benissimo C'è una roba incredibile ragazzi Io non riesco a capire il senso Di perché qualcuno Debba caricare Gameplay Di Battlefield 1 Su Pornhub Sul sito porno Perché è che non ne trai profitto E comunque Cioè guardate le valutazioni 100% positivo 95 92 88 Stepney Comunque A parte questo Cioè hanno anche delle valutazioni Molto molto alte Per essere Gameplay di un videogioco Su un sito porno Ok Va bene Quindi ragazzi Io direi che per questo breve Ma molto Molto intenso per me Perché voi non vedete Quello che sto vedendo io Video È tutto E non lo so Commentate dicendomi Cosa ne pensate E lasciate un like Se vi è piaciuto Noi Come sempre Ci mettiamo Al prossimo video Ciao ciao